Un lavoro ce l'avevano ma lo stipendio evidentemente non gli bastava, così due dipendenti dell'azienda veneziana della mobilità SPA hanno cominciato ad appropriarsi degli incassi dell'autorimessa comunale di Sant'Andrea dove erano impiegati, ma sono stati incastrati dalle telecamere e sono stati denunciati per peculato e falso. I dirigenti della società, totalmente partecipata dal Comune di Venezia che gestisce anche il garage in piazzale Roma, avevano rivelato una serie di procedure anomale nella gestione degli ingressi del parcheggio e un consistente ammanco nelle casse della società. Da una preliminare ricostruzione contabile la appropriazione in debita ha causato un mancato introito quantificabile in circa 70.000 euro l'anno. I finanziari veneziani dopo aver piazzato microspie e telecamere nell'ufficio cassa all'ingresso dell'autorimessa hanno ricostruito con pazienza certosina tutti i movimenti dei due che sono stati ripresi mentre aprivano forzatamente le sbarre del barco di entrata e di uscita dell'autorimessa oppure mentre annullavano forzando le procedure le tessere in entrata. Quando il cliente era compiacente utilizzavano impropriamente il periodo di franchigia facendo entrare e uscire gli avventori del parcheggio senza riscuotere il dovuto e ottenendo una remunerazione in nero. Se il cliente era straniero invece gli proponevano di versare un importo inferiore a quanto dovuto riuscendo con straordinaria abilità a deludere i controlli automatici interni e intascare direttamente l'importo senza versarlo in cassa. Solo un paziente lavoro di osservazione dei movimenti e di ascolto delle conversazioni incrociato poi con i dati contabili della società ha consentito però di svelare la frode.